Numero 349, 350, Sozaku e Lelouch Ti è così bianco, mi è così impeccato, non credi? Anche se bianco e rosso, sono due splendidi color insieme Non mi rispondi? Ehi, ho un regalo per te Che ne pensi, Sozaku? Sozaku, sono l'imperatore e tu sei un cavaliere Ma questa è una semplice formalità Non c'è bisogno che ti inginocchi di fronte a me Non sono inginocchio perché sei l'imperatore Sono inginocchio per prestare rispetto alla tua decisione Sozaku, puoi uccidermi, giusto? Sì, con questa spada ucciderò sia te che me allo stesso tempo Lelouch, 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 non c'è altro modo Nessuno Lelouch, Lelouch, non c'è altro modo Lelouch, Lelouch, non c'è altro modo Lelouch, non c'è altro modo Lelouch, non c'è altro modo